Anche per l'anno in corso e per il 2025 e il 2026 resterà intatta la gratuità della trattato stadale della 24 tra i caselli dell'Aquila Est e dell'Aquila Ovest. Gratuità che è stata ripristinata dopo 20 anni rimettendo quella tratta in funzione di variante con benefici in dubbi che si sono già registrati alleggerendo il traffico cittadino. Iniziativa che per il comune dell'Aquila ha dei costi 609 mila euro di finanziamento statale straordinario ottenuto con un emendamento alla finanziaria. Importante perché tale intervento normativo blind alle risorse perché l'emendamento prevede che nell'ambito del nuovo accordo tra la concessionaria e il ministero delle infrastrutture qualora i costi del pedaggio dovessero essere coperti queste risorse verranno usate anche in parte per interventi di ricostruzione post-terremoto legate alla viabilità. La prima convenzione per far diventare il tratto comuna tangenziale di servizio era stata attivata il primo maggio del 2023. A firmare erano stati il sindaco Pierluigi Biondi e il responsabile Anas Marasco. Convenzione come si spiegava onerosa per il comune ma vantaggiosa per il cittadino. La viabilità interna è stata decisamente più libera. Anas in questo primo anno di convenzione ha prodotto al comune con cadenza trimestrale il dato relativo al numero di veicoli che hanno soffrito dell'esenzione. Decisamente un buon numero che ha dimostrato dunque l'efficacia della scelta. Il tratto interessato è di circa 5 chilometri. L'obiettivo era appunto decongestionare il traffico interno cittadino spostando in una parte sull'arteria autostradale. Gratis per tutti, non solo per Chiatelepass. Il comune aveva stanziato 100.000 euro per il 2023 e altrettanti per 2024 e 2025 ma è stato necessario poi mettere sul piatto un numero maggiore di risorse. L'iniziativa è stata apprezzata dall'utenza perché secondo i report di Anas in tre mesi presi di riferimento nel 2023 ad esempio maggio, giugno e luglio quasi 90.000 utenti hanno soffrito della gratuità.